Hercules Aralambides torna sulla poltrona di presidente dell'autorità portuale Brindisina. A deciderlo è stato il Consiglio di Stato che ha accolto la richiesta di sospensione della precedente sentenza del Tardilecce. Un vero e proprio colpo di scena che arriva quando ormai erano davvero in pochi a credere che il professore ellenico, giudicato dal Tribunale regionale incompatibile proprio per nazionalità con incarichi che presuppongono la possibilità di assumere decisioni economiche strategiche per l'economia nazionale potesse alla fine spuntarla sul contendente Calogero Casigli che a quella carica aspirava. Secondo la quarta sezione del Consiglio di Stato, a margine dell'udienza tenutasi martedì mattina a Roma, il Tard si era sbagliato e pur senza conoscere le motivazioni che hanno portato alla decisione odierna ha accolto in via interinale l'istanza cautelare promossa da Aralambides e quindi per l'effetto sospende l'esecutività della sentenza impugnata. Prevale quindi la tesi degli avvocati del Greco che davanti ai giudici avevano spiegato come il professore non avesse più mezzi di sostentamento perché a suo tempo aveva rinunciato alla cattedra presso l'Università Erasmus di Rotterdam e da metà giugno non riceveva neanche più l'indenità dell'autorità portuale di Brindisi essendo stata annullata la sua nomina. Aralambides è stato lasciato su una panchina di Brindisi, aveva spiegato il suo legale, ma ora da quella panchina l'ellenico può rialzarsi e riprendere il posto occupato in questi sei mesi dal commissario straordinario dell'autority Ferdinando Lolli, il cui incarico sarebbe comunque scaduto il 26 gennaio. L'ultima parola aspetterà però alla Corte di Giustizia europea chiamata ad esprimersi sull'annoso quesito. Può un cittadino straniero ricoprire un incarico così delicato in Italia? La domanda resta ancora senza risposta e la tredicesima fatica di Ercole rischia di entrare di diritto nella nutrita mitologia Brindisina.